I sedili della classe business dell'Airbus A350 di Singapore Airlines L'unico problema di questo volo Barcellona-Milano malpensa che dura cost poco, circa un'ora e venti minuti, che non si riesce a vedere un intero film in prima visione come Bullet Train, Nope o Minions 2 come Gru diventa cattivissimo che si trovano nel sistema di intrattenimento di bordo. Ma sufficiente al personale di cabina per far arrivare un po' di tutto. Un panino a scelta tra prosciutto e formaggio o uovo con insalata. Bibite calde e fredde. Una volta finito si possono lavare i denti con lo spazzolino e il dentifricio che si trovano in bagno. Ed tutto gratis. Come a costo zero anche il trolley che si può portare in cabina. Le tre classi benvenuti a bordo del collegamento diretto Singapore Airlines SQ377 dalla CIT spagnola al capoluogo Lombardo, pagato un luned di novembre 58,42 euro in economy, 41 euro di tariffa base, 17,42 euro di tasse aeroportuali. Ma volendosi tu prenotare, pagando di fee, un sedile in premium economy e persino in business con una poltrona che diventa pure un letto in un'isola personale. Un volo che la compagnia.